Ben trovati ai telespettatori e benvenuti nel salotto televisivo di Cilento Channel. Oggi ospite del nostro telegiornale Vito Rizzo, uno dei promotori del festival, prima edizione del festival della teologia dal titolo Incontri, che si svolgerà nel mese di agosto e precisamente nei giorni 6, 7 e 8. E allora Vito, parliamo un po' di questo festival, prima edizione, ecco l'idea proprio di realizzare una manifestazione dedicata a degli incontri con i rappresentanti della fede. Diciamo che il titolo è già incontri dal senso, la fede porta ad incontrarsi, la chiesa incontro e l'idea di fare un festival rappresenta anche un po' questo, cioè il festival mette in mostra esperienze diverse. Ed è questo un poco il canovaccio che seguiremo in tre serate, che saranno tre serate itineranti perché il 6 agosto l'evento si svolgerà ad Ascia Marina, nella piazza Europa, quindi sul lungomare, il 7 agosto a San Marco di Castellabate, nella piazzetta del Porto, e l'8 agosto ad Agropoli, nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Quindi portare la teologia in piazza, ma su un tema che coinvolge tutti, coinvolge credenti e non credenti, che è quello della felicità. Ecco, vogliamo anticipare anche ai nostri tre spettatori, chi saranno poi coloro che modereranno insomma la serata, che incontreranno i cittadini e porteranno l'attenzione appunto delle persone la parola di Dio? Beh, più che portare la parola di Dio, l'idea è quella di portare una prospettiva di Dio. Dicevo, la cosa importante è il tema comune. Ci saranno tre teologi, uno per ogni sera, che illustreranno il tema della felicità. Si partirà con Fra Vincenzo Ippolito, che è un giovanissimo biblista, ma molto molto apprezzato. Il 7 agosto invece ci sarà Don Bruno Lancuba, anche lui un biblista, e l'8 agosto invece sarà la volta di Don Damiano o Modena. L'idea è proprio quella di affidare a loro delle considerazioni che partendo da un percorso personale che richiami un po' anche l'esodo, come nell'intervento di Fra Vincenzo Ippolito. Poi Don Bruno Lancuba affronterà l'aspetto anche dei libri sapienziali, quindi di quella che è la conoscenza, la sapienza dell'uomo che racconta la Bibbia. E poi Don Damiano Modena invece affronterà il tema un po' su quello che è lo spirito della gioia che anche Papa Francesco sta trasferendo. Pensiamo all'Evangelii Gaudium, ossia la gioia di trasmettere il messaggio di Gesù. Ma la cosa importante è che le serate non saranno serate classiche, non saranno delle serate come, casomai ci si può attendere, di catechesi. Non è questo, sono serate nelle quali si affronterà questo tema, naturalmente con solidità, come faranno i tre teologi, ma poi dopo la serata proseguirà anche con dei gruppi carismatici. Ci saranno i giovani della gioventù francescana, ad esempio ad Ascea, poi avremo rinnovamento dello Spirito Santo e azione cattolica a San Marco di Castellabate e termineremo con il gruppo di caserta del rinnovamento carismatico Servi di Cristo Vivo nella piazza di Agropoli. Quindi questa idea del festival, l'idea di mettere assieme tante componenti, tanti modi in cui ciascuno vive l'esperienza di fede e soprattutto la gioia dell'esperienza di fede, diciamo è un po' la sfida che si è voluta lanciare. Ci sarà anche la possibilità da parte dei partecipanti e quindi dei cittadini, dei turisti, di poter replicare al dibattito e quindi di poter essere protagonisti? Allora, in realtà noi avremo uno spazio intervista iniziale, poi un intervento affidato al teologo che durerà al massimo tre quarti d'ora, quindi perciò dico non spaventatevi del tema, ma il modo in cui si affrontano gli argomenti e soprattutto lo stimolo che si ha e poi dopo, dicevo, ci sarà questa animazione, quindi è una serata dinamica, ciascuna serata sarà appunto dinamica e sarà un po' un seme che si vuole affidare poi a ciascuno. Ripeto, tenendo conto che la fede non è un qualcosa riservato a pochi, la felicità non è un tema riservato a chi frequenta la Chiesa, ma la Chiesa ha il compito di mostrare come sia bello e interessante vivere la propria vita ricercando la felicità. E le chiavi di lettura che cercheremo di dare in queste serate speriamo possano essere utili ai più. Tra l'altro, grazie alla collaborazione con Cilento Channel, noi saremo nelle case, in diretta, quindi anche questa è una bella opportunità per poter seguire per intero l'itinerario e il percorso del Festival. Bene, quindi non mi resta che ricordare ai nostri telespettatori che il primo appuntamento si terrà il 6 agosto alle ore 21 nel comune di Ascea Marina e precisamente in Piazza Europa. A seguire poi ci sarà il secondo incontro che è previsto per il 7 agosto sempre alle ore 21 a San Marco di Castellabate in Piazzetta del Porto per poi concludersi l'8 agosto nella città di Agropoli in Piazza Vittorio Veneto sempre alle ore 21. Come prima annunciava Vito gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva sul nostro canale quindi anche per chi non potrà essere presente fisicamente nei luoghi dedicati potrà seguire la trasmissione Incontri quindi la prima edizione del festival dedicato alla teologia da casa. Dimmi Vito, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo aggiungere un'altra cosa visto che queste sono serate in cui durante l'estate ci si dedica alla famiglia allora vogliamo anche dire che per tutte le famiglie che parteciperanno in contemporanea con quel momento diciamo della relazione diciamo del teologo Azione Cattolica avrà i propri gruppi in ogni città per seguire i bambini quindi per fare attività con i bambini quindi diventa anche quello un modo per vivere pienamente queste serate. Ovviamente l'ingresso è gratuito quindi tutti potranno prendervi parte. Noi ringraziamo come emittente televisiva Vito Rizzo che continua il suo messaggio attraverso appunto queste manifestazioni importanti ricordiamo anche il successo che ha avuto la scorsa stagione televisiva per quanto riguarda il programma Eccomi molto molto seguito e ne approfitto anche per chiedere a Vito per la prossima stagione televisiva se ha già in progetto di continuare così anticipiamo anche i nostri telespettatori prima di chiudere questa bella intervista quali saranno le novità? Beh diciamo che Eccomi riprenderà probabilmente con le registrazioni a settembre poi concorderemo la data di messa in onda della nuova stagione è stata una bella esperienza che appunto speriamo di poter proseguire con ancora più efficacia e poi stiamo lavorando anche ad altre novità anche un progetto dedicato ai bambini ma non vi sveliamo niente tanto siete sempre collegati su Cilento Channel e quindi avrete modo di scoprire cammin facendo quelle che saranno le prossime novità Bene, grazie Vito grazie anche ai nostri telespettatori mi raccomando continuate a seguirci e non perdete questi importanti appuntamenti che partiranno appunto ad agosto precisamente il 6, 7 e 8 alle ore 21 in diverse località del Cilento grazie e arrivederci Grazie a voi